Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Chi è Francesca Pagni? Beh, è bello parlare in terza persona di se stessi, è una cosa che mi ha sempre divertito. Comunque sono una cantante e soltanto recentemente ho capito di poter fare dei miei inediti, quindi vi posso dire interprete, cantante, cantautrice, diciamo. Poi la passione è nata già da quando ero bambina, che mi ascoltavo le canzoni dei cartoni animati, ossia quelle di Cristina D'Avena o anche la sirenetta con i vocalizi che facevano, insomma queste canzoni che le trovavo bellissime, un po' che facevano sognare, anche quelle di Pocahontas che parlava dei colori del vento, non so, mi facevano immaginare, e quindi le ho sempre adorate. Poi più avanti ho deciso, insomma avevo visto un annuncio di un concorso che facevano, e così ho deciso di iscrivermi per avere insomma l'occasione di stare di fronte a un pubblico, così con una base, ed era la prima volta, con tutti anche i miei amici. Non avevo dormito quasi tutta la notte perché ero proprio felice, nonostante insomma l'esibizione, come poi mi ero rivista, ero immobile, non mi muovevo, rimanevo così, però ero proprio felice, quindi non vedevo l'ora insomma di fare un'altra esibizione, di poter migliorare insomma anche le capacità canore, e quindi poi ho partecipato anche a diversi festival, concorsi, canori, poi vedendo anche mio fratello che è un bassista e quindi già nel nostro garage si divertivano con il loro gruppo, allora ho pensato mi piacerebbe anche a me, quindi già con i ragazzini decidemmo insomma di fondare un primo gruppo, anche se poi insomma come ci sei dentro, specialmente con i musicisti insomma inesperti, ti rendi conto magari la batteria è troppo alta e quindi ti copre totalmente la voce, la chitarra, poi è esageratamente alta e quindi sempre coperta, quindi insomma ho pensato o mi faccio un duetto direttamente perché così ho soltanto la mia voce e il chitarrista, oppure ho cercato poi dei musicisti più grandi insomma che capissero le dinamiche perché se no insomma risultava da lì insomma capivo anche diversi litigi che ogni tanto sentivo sui suoni, quindi è importante sapersi un po' adeguare ecco a insomma i vari strumenti perché la voce non è che ho un amplificatore che mi permette di alzarla, quindi bisogna un po' avere un equilibrio nel gruppo che va giustamente rispettato. E quindi poi più avanti si è presentato a casa mia il mio chitarrista che aveva partecipato a un talent e un produttore gli aveva chiesto degli inediti e quindi mi aveva chiesto fra mi servono degli inediti e io non so scrivere, lui dai proviamo come diceva lui a schitarrare mentre io schitarro tu inizi a scrivere oppure prendi qualcosa che hai già scritto e non è di queste poesie. Allora avevo preso le poesie che avevo scritto e mentre suonava erano venute giù diverse canzoni in una settimana già sei ne avevamo fatto e quindi poi eravamo partiti a Roma ed erano anche piaciute quindi da lì mi era partita la cosa che volevo realizzare dei miei inediti. Non ho ancora pubblicato quelli con lui però più avanti mi piacerebbe perché ora insomma un errore che molto spesso si fa pubblicare pubblicare senza però dedicarsi alla sponsorizzazione di quello che si è appena creato. Quindi adesso sto realizzato e quindi sto sponsorizzando quello che ho appena creato perché sennò li ascolto solo io e quindi mi piacerebbe invece avere l'opinione di tante persone. E quindi niente ho realizzato finalmente i miei inediti. Parliamo dell'ultimo brano che poi in inglese come dasce questo ultimo brano e soprattutto cosa è il tratto di ispirazione? Beh, per Brady's Couple è un singolo dance anche perché mi piaceva fare un singolo insomma alla discoteca questo classico tunz 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 e poi come trama, insomma di cosa tratta? Siccome mi sono immaginata una torta annunziale di quelle insomma più antiche e tradizionali dove c'è lo sposo e la sposa che non si guardano insomma come quelle moderne che ci sono adesso, sono proprio uno di fronte all'altro quindi non si guardano mai e quindi ho immaginato insomma la coppia che dopo tanti anni non si insomma non si ricorda più la bellezza dell'amore che avevano vissuto quindi non si ricordano più chi erano come coppia e semplicemente sono immobili esattamente come le statuine della torta annunziale quindi belli all'apparenza ma dentro insomma non si riconoscono più in quell'amore bello insomma che avevano vissuto e quindi insomma entrambi sentono un desiderio di movimento quindi da lì infatti nasce il desiderio di poter tornare a ballare e da lì infatti il ritmo dance di questa canzone che entrambi vogliono ritornare alla vita e quindi Brady's Couple nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme? dipende perché magari tipo il cuore salta sì quella lì l'ho realizzata mentre stava suonando il tastierista quindi io avevo la mia poesia dove c'è scritto il cuore salta sì consolida al suo e quindi lì ho suonato e mi è venuto in mente il cuore salta sì che io mi piace sì consolida al tuo ho detto ok io che mi piace e poi ho costruito piano piano il resto ovviamente con il suo aiuto e invece per portami un caffè stavo lavorando in un periodo e quando sono tornata a casa avevo soltanto in mente il ritornello portami un caffè Maria e ho ricercato una poesia che sapevo che poteva essere perfetta e quindi ho cercato insomma di capire il ritmo che doveva avere quindi la melodia che iniziava nel suo cuore rabbia nel vuoto quindi ho detto devo capire perché la voglio insomma se il ritornello è portami un caffè veloce deve essere anche insomma la strofa qualcosa di leggero quindi pensato nel suo cuore rabbia nel vuoto testa gentile alle menti più forti rivelle senza sforzo donna povera donna povera in realtà ma tu pu ho detto ok c'è ho detto l'ho trovata e poi sì come cambia la canzone insomma mi è piaciuta la melodia quindi a seconda della canzone ci può essere prima la melodia in altre invece come in cuore salta prima c'è lo strumento e poi a seconda di quello che suona mi invento delle melodie quindi dipende a seconda di come non so l'ispirazione non so a che cosa si si faccia riferimento però quando c'è bisogna stare ben attenti portami un caffè il video il video è stato fatto con grande difficoltà ma soprattutto nelle registrazioni c'è avuto anche degli spettatori è una piccola curiosità quel e sì mi sono più che altro l'esigenza del videoclip era perché stavo contattando perché ogni giorno ho contatto qualcuno insomma per spingere di più la mia musica e mi hanno detto sì Francesca ci piace bella canzone portaci appena c'è il video lo possiamo mandare in trasmissione poi un altro appena hai il videoclip mandalo che lo possiamo mandare io devo assolutamente farmi il videoclip non ho soldi per insomma fare chissà quale video per cercare altra gente però ho detto ce la posso fare col cellulare vediamo cosa cosa riesco a fare poi al massimo se proprio non mi piace lascio perdere chiedo però avevo in mente di realizzare insomma delle scenette quindi di sdoppiarmi non so di fare sia la parte di questa Maria frustrata insomma che se la prende con chi magari è più debole quindi ho pensato è una situazione lavorativa volevo fare diversi tipi di Maria ma alla fine ho pensato quella lavorativa è basta perché in una canzone che dura solo due minuti non potevo fare chissà quante scenette e quindi ho pensato insomma di fare prima cinque anzi in realtà ne ho fatto un po' di più di scenette che poi nella canzone sui risultati si quattro cinque quindi prima le scenette e poi insomma la parte in playback quindi dove si canto in playback con diverse inquadrature poi per lo spettatore si è perché mentre stavo cantando in playback infatti l'ho lasciato in uno in uno spezzone insomma in un pezzettino dove guardo verso sinistra cioè non c'entra niente verso sinistra mentre cantevo portami un caffè perché io ero da sola con il cellulare e la musica insomma quindi cantevo i playback e dopo un po' vedo questo signore che io ballavo cioè sembra una cretina per chi lo vede dal di fuori se lo vedi dal video vabbè se lo vedi dal di fuori questo signore stava passeggiando e poi si è proprio fermato così in attenzio e io ho guardato porta e ho capito perché poi non se ne andava cioè è rimasto lì per un po' mica lo capisci che sta facendo avrei pensato sta facendo un tic no un tic toc insomma sarà un po' rincognonita no vabbè tagliala questo scherzo scherzo l'emozione di suonare di cantare il primo brano poi ti è stata un pochettino storpiata perché l'hai dovuta registrare in realtà a casa non sei dovuta andare in studio però sarebbe stato bello entrare nello studio incidere il primo brano alla fine sì certo ma vabbè qualche canzone magari tempo fa l'avevo anche incisa in uno studio magari qualche cover o con la nostra scuola di canto però per quanto riguarda queste canzoni mie inedite sì mi sono dovuta arrangiare vabbè a casa ce l'ho una strumentazione insomma un microfono poi ho dovuto insomma seguire le indicazioni dello studio come si registra le track poi senza mettere insomma nessun tipo di effetto poi l'ho inviato allo studio e quindi loro hanno montato quindi mi mandavano un po' insomma i risultati piano piano insomma della canzone infatti poi importami un caffè all'inizio gli avevo chiesto insomma che fosse me la veloce io ho detto nel suo cuore rabbia lui guarda che esce ritmata mi diceva dallo studio guarda che esce ritmata comunque anche se la fai più lente io non riesco a immaginarmela così allora ha avuto la pazienza di fare una una versione abbastanza veloce di come gli avevo detto io e poi la versione più lenta che infatti era quella che poi ho realizzato e lui senti un po' questa è quella che vuoi tu e questa è quella che ho realizzato io cosa preferisci io mi sa che hai ragione ho capito e lui eh vedi e io sì ok ok non gli volevo dare la soddisfazione giustamente il tuo brano sta girando l'Italia perché sei possiamo dire da metro beh vabbè sì sono stata selezionata per questo concorso dove ho partecipato e quindi è andato in onda sino al 6 di gennaio quindi porto il caffè era nelle metro di Roma Milano Genova Brescia e negli aeroporti più importanti d'Italia infatti erano in metro alcuni miei amici di Roma e mi chiamano fra nella metro c'era sentiamo la canzone portami un caffè noi ci siamo detti ma questa la conosciamo e ho detto perché in metro io eh sì sono stata selezionata loro no dai però non ho visto il video io guarda me l'hanno inviato e là glielo ho mandato su whatsapp e loro dai che figo in effetti mi sarebbe piaciuto se me l'avessero inviato però è stato bello comunque insomma ci tenevo emozioni quando si prova a salire sul palco e cantare al vivo qual è le sensazioni che provi quando trovi il pubblico davanti la quarta platea che si emoziona canta inizia almeno il senso ma poi si emoziona e ti emana quell'energia sì è bello mi ricordo perché dipende a seconda non so di qualcosa magari se sono più agitata io tanto dura poco per fortuna la insomma l'emozione è così insomma intensa perché poi si è concentrata sulla musica e non so c'è una bella atmosfera soltanto una volta ho avuto proprio un vuoto mentale che poco prima di salire sul palco non mi ricordavo più il testo né nulla e quindi ho chiesto dammi la borsa a una persona che c'era vicina fra tocca a te dammi la borsa non mi ricordo il testo vi stai scherzando non sto scherzando allora gli ho chiesto e io ok ok Francesca panio tieni tieni salve oggi c'è voglia di ridere vabbè e quindi poi mi sono ricordata il testo era tutto bene però queste sono alcune cose che succedono dietro le quinte ti piacerebbe fare un duetto con qualche artista c'è qualche artista che ti ispira e che ti ha dato quell'emozione in più che ti fa anche ti ha fatto anche crescere beh vabbè io ascolto sempre insomma le grandi artiste quindi da Amina Beyoncé Giorgia Alicia Keys Cristina Aguilera poi Elisa Giorgia Le adoro quindi non so se insomma nella fantasia certo con tutte loro sarebbe stupendo e anche con Cristina da Vena perché insomma con tutte le canzoni dei cartoni animati che ha cantato che mi ha fatto sognare non so molto volentieri ti piacerebbe suonare su una serie tv un cartone per un film? eh sarebbe bellissimo sì una bella colonna sonora tra l'altro ho realizzato anche una colonna sonora per un musicista che così ci siamo conosciuti su Facebook e niente gli avevo fatto i complimenti perché avevo ascoltato delle sue insomma delle sue opere delle sue colonne sonore e ne era rimasta insomma meravigliata e quindi me ne aveva mandato qualcuna per sapere insomma se ci potevo cantare sopra e quindi insomma ne ho realizzato alcune e si è mi ha fatto dei bei complimenti perché è stato strano una dotata naturale cioè non hai messo una melodia cioè tutta tua è anche ben strutturata io in realtà non sono andata a sentimento cioè quello che ci stava bene perché poi si aumentava insomma sempre di più sai quei cori che ci sono nelle colonne sono molti i cori e quindi mi mi è piaciuto collaborare con lui anche perché poi insomma fa parte di alcune etichette discografiche tedesche insomma è stata una bella collaborazione quindi sì mi piacerebbe già hai realizzato tanti sogni sogni nel casetto ci sono ancora oppure si hanno già rubato la scrivania beh no ci sono ovviamente uno sogna a Sanremo insomma sogna di poter fare insomma dei palchi quello ovviamente però qualche soddisfazione come insomma essere presente nelle metro di diverse città molto importanti o essere una rivista nazionale o avere più di 60.000 stream su Spotify ho non so realizzato diversi obiettivi che avevo in mente e li ho realizzati anche in poco tempo quindi comunque alcuni sogni che pensavo insomma fossero abbastanza distanti dal poterli realizzare invece fa piacere che li ho realizzati insomma con le mie forze e quindi sì poi se uno sogna in grande ovviamente insomma si spera se potessi salire su un palco attualmente nello spazio e nel tempo indifferente dall'attuale ti piacerebbe salire su un palco con quale artista e su quale palco beh magari con Elisa all'Ariston proprio sogniamo è un duetto un duetto per Sanremo eh vabbè se uno deve sognare certo lei è dai non so una fata è meravigliosa questa voce poi adatta a tantissimi generi poi adesso che è nata anche all'Ariston non è soltanto delicata ha anche questo tipo di non so questo tipo di voce che riesce ad adattare bene le canzoni è micidiale pazzesca grazie mille per avermi intervistato ciao studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro l'intervista di Pietro non sa più cosa credere non conosce più la gioia di una vita d'amore un mondo senza più colore portami un caffè Maria portami un caffè Maria continua a scrivere ma non sconderò grazie a tutti